Il coronavirus fa un'altra vittima nel cinema. L'attore britannico Johnny Lease, star inglese, è morto all'età di 78 anni per le complicazioni legate al Covid, come riferisce la BBC. Lease è stato un noto interprete di alcune tra le più popolari serie del piccolo schermo del Regno Unito come Emmerdale e soprattutto Coronation Street, dove interpretava un lattaio. L'attore ha recitato in un centinaia di episodi, tra cui quelli dei telefilm, creature grandi e piccole, Stay Lucky, Life on Mars, Last of the Summer Wine, Valle di Luna e molte altre.